Il quindicesimo aggiornamento della 263 introduce elementi evolutivi nella risk governance. Quali sono i più importanti? Certamente l'introduzione del risk appetite framework, delle operazioni di maggior rilievo e il ruolo del risk management nell'ambito del controllo crediti portano il profilo del risk management su livelli da un lato più strategici, dall'altro ne ampliano il livello di interazione con le altre funzioni. Io sono convinto peraltro che questo sia lo step naturale di un processo evolutivo che è iniziato anni fa con l'introduzione di Basilea 2 e poi di Basilea 3 successivamente, che porta le funzioni coinvolte nella governance del rischio ad operare in modo sempre più integrato e con un profilo sempre più rivolto al supporto delle decisioni strategiche e direzionali. Il quadro normativo è in rapido cambiamento, vedete sinergie tra le evoluzioni in atto? Certamente l'osservazione delle normative può apparire talvolta portatrice di interventi frammentari e disarticolati. In realtà se si dà uno sguardo d'insieme all'evoluzione del quadro normativo si notano una serie di possibili sinergie. Pensiamo alle sinergie tra tutto il framework di indicatori sviluppato per l'asset quality review che possono essere ricapitalizzati e riutilizzati nell'ambito del framework per la gestione del controllo crediti da parte del risk management. Ma non solo, possiamo anche pensare a come vi siano elementi evidenti di sinergia tra il mondo RAF che porta ad una convergenza tra il mondo finance e il mondo risk. In qualche modo e normative come ad esempio quella relativa al PERDAR che chiedono ai principali player per il momento i più grandi di definire basi dati e dataset informativi integrati proprio tra la componente finance e la componente risk. Quindi possiamo dire in sintesi che la lettura complessiva delle recenti evoluzioni normative ci porta a comprendere come le banche si stiano evolvendo dal punto di vista dei processi, delle competenze e delle basi dati, quindi della capacità di tradurre informazioni elementari in azioni concrete a supporto delle decisioni strategiche dell'alta direzione.